le 6 famiglie che hanno accettato le 6 famiglie, forse 7 che hanno fatto, hanno firmato un certo corso noi non le abbandoniamo, se le altre io non ci fanno scendete da, scendete allora io con le famiglie non so che si mette il progetto forse non manco una sola che non è tutta venire, ma non c'è riuscita niente ora ci mettiamo in un angolo e verifichiamo tutto quello che abbiamo fatto perché il sindaco ha firmato pure una direttiva specifica solo per voi per trovare un posto, sindaco, anche la zona in cui voi uscirete da qui state tranquilli con chi ha firmato il progetto con la salita? no, 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 con tutti quindi io vi prego, ripeto, sto parlando delle 6-7 famiglie perché ci siamo incontrati anche con loro c'è tutta la disponibilità anche da quando foro per l'ordine no, no, non so, come stanno andiamo a mantenere, siamo tranquilli, calmi non mi sposto da un millimetro dal raccoglio che abbiamo fatto quindi a voi, gli altri non vi dimentico, perché abbiamo cercato i chiamati con voi ora ci vediamo Paolo, qua, costa per questo a 1-1 a 1-2 non potete, cosa farete c'è Paolo? non abbiamo fatto nessuno abbiamo fatto abbiamo fatto un accordo questo accordo non si sposta e noi, 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 solo questo quindi, quindi ora possiamo uscire da voi preparate le vostre cose con calma a 1-1 i nostri mobili anche qui 인가 grazie 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 grazie